ben tornati questa qui sarà una brevissima puntata conclusiva della nostra prima stagione podcast narrarti frammenti di cultura l'abbiamo provato un sacco di volte soltanto dieci volte l'ultimo mese quindi giustamente mi posso anche dimenticare allora comunque siamo sempre noi christian e miles ovviamente che abbiamo accompagnato insieme agli altri speaker in questo viaggio di dieci episodi appunto questo primo esperimento iniziativa questo nuovo podcast esatto in questa di questa della nostra fama radio web appunto vogliamo ricordare un attimo gli altri pochi speaker che hanno partecipato e sono alice robert e davide assolutamente che ringraziamo che non sono qui oggi però saranno sempre con noi assolutamente sono parte della realizzazione come ringraziamo loro ringraziamo anche tutti coloro che fanno parte del resto della relazione quindi i tecnici che si occupa del social esattamente della fotografia e così via ovviamente il ringraziamento più grande va agli ospiti ai nostri ospiti che hanno caratterizzato tutte le puntate insomma queste dieci puntate che sono state ricche di vario musica ricche di musica soprattutto la metà degli episodi sono stati solamente in musica ovviamente a noi è piaciuto tantissimo anche fare altro cioè nel senso ovviamente intervistare fotografi di attori compagnie teatrali scrittori arte in generale e invitiamo appunto a anche tu qualsiasi tipo di artista a venire ad ascoltarci per la prossima stagione e qua attenzione qua ci facciamo un po di spoilerini forse sì qua momento spoiler ci sarà una prossima stagione assolutamente la prossima stagione abbiamo detto noi che abbiamo iniziato questo podcast in un diciamo con un approccio molto da esperimento e quindi adesso che abbiamo un po sondato le acque vorremmo implementare qualche bella novità magari rendere le interviste più dinamiche o comunque rinnovare grandi rinnovamenti io direi che abbiamo già potuto sperimentare qualcosina nell'ultima puntata che vi ricordiamo di andare a sentire come tutte le altre che trovate nel nostro sito frammaradioweb.com sezione podcast nella sezione podcast ovviamente vi invitiamo dunque a scriverci per la prossima stagione invitiamo tutti gli artisti a scriverci alla nostra mail frammaradiweb.com anche perché abbiamo detto sì amiamo tanto la musica ci piace fare le interviste agli artisti musicali però abbiamo anche una certa curiosità verso i mondi che magari non conosciamo tanto quindi vi invitiamo ancora una volta a scriverci perché sarei sempre benvenuti davanti ai nostri microfoni esattamente questo è anche un vostro palcoscenico per mettervi in mostra e un nostro per conoscervi assolutamente e beh direi che ci possiamo vedere direttamente il 10 novembre perché sarà proprio la data di uscita della prima puntata della seconda stagione esatto primissima puntata della nuova stagione ci saremo sempre io e miles si spera ovviamente ci siamo ci siamo ovviamente anche gli altri speaker e tutta la nostra redazione vi invitiamo dunque a scriverci ancora una volta a seguirci sui nostri social instagram e youtube assolutamente frammaradiweb e con questo vi salutiamo vi salutiamo e vi invitiamo a continuare a sentirci ciao ragazzi ciao